La sala per le fedi a Gardolo è diventata a pagamento. Il centro evangelico ecumenico di Trento protesta per la spesa e teme per il diritto a professare il culto. Cinzia Toller. Questa sala della circoscrizione a Melta di Gardolo da 20 anni ospita gratuitamente il melting pot di una minoranza religiosa che vuole mantenere un dialogo vivo con il cattolicesimo. Circa 300 persone che si alternano fra Chiesa Ventista, Assemblea di Dio, Comunità Evangelica Nigeriana, Movimento Evangelisti Ganesil. Sindaco Pacher ricorda il valdese Salvatore Peri aveva promesso e previsto una struttura per le fedi nell'ex area zuffo. Ora si devono pagare dai 40 ai 60 euro per professare il proprio credo che è un diritto della Costituzione. Dalla esclusività siamo passati alla precarietà con un pericolo di slociamento. Ci potranno chiedere come è stato fatto nel passato di levare gli armadi contenenti bibbie, contenenti nari, l'armonium. La mia preoccupazione per queste piccole comunità che non possono pagare. Non si deve fare confusione con la libertà di culto, replica l'assessora Chiara Maule dal 1 gennaio. Il regolamento prevede che la sala non si paghi solo per attività con ricaduta pubblica. Noi della comunità ganese siamo in 40, dice Zedì Gregory, ma non possiamo pagare nulla. Io credo sia importante anche contribuire, però 60 euro mi sembrano troppi. Noi chiediamo un'attenta riflessione all'assessore di poter venire incontro a queste realtà.